La cittadinanza attiva La cittadinanza attiva Un territorio povero Un territorio che veramente tende a scomparire Noi qui diciamo che non ci può essere pace Se non c'è giustizia sociale Ok finito Un applauso Allora ci sta salutando Noi portiamo il saluto Queste persone da Reggio Calabria Guardiamo questo là Il singolo albero sarà etichettato La borsa Musica Il compito della comunicazione sociale è quello di sensibilizzare le persone, dargli una visione che loro in quel momento non hanno e capire che ognuno nel proprio piccolo può fare delle cose per cambiarle il mondo. Musica Guardiamo il presente con occhio diverso ma soprattutto ci proiettiamo nel futuro soprattutto con un'attenzione particolare per quanto riguarda l'aspetto ambientale ai mutamenti climatici al collegamento tra mutamenti climatici e giustizia sociale, la questione del Mediterraneo sono tutte cose che attraverso l'occhio degli artisti, dei comunicatori, degli operatori di pubblicità che sono i giovani che escono dall'Accademia possono essere rilanciati e attirare la sensibilità dei cittadini. Musica 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 Musica